E eccoci qua, siamo in una nuova finale, finale di Carabao Cup e andiamo con questa squadra, non è la nostra titolare perché normalmente noi titolare abbiamo come si chiama, Bremer se non sbaglio non è titolare, si infatti Bremer non è titolare però è un pochettino stanco quindi ci metto Tapsoba che sta, non sembra tanto male che purtroppo abbiamo due brutti infortuni, cioè quello di Bowen e quello di Chiesa che dai speriamo che vada bene, alla fine Vlasic in fascia, non è tanto male Bastoni che ci aiuta, ho fatto lo scambio per i Bagnets l'attacco, ragazzi favoloso, con l'omani una bomba, cioè vi faccio vedere al volo qualche partita, vi posso dire che io sono difficoltà o esperto o campione non ricordo, però 10-2 contro i Leeds, oppure 8-1 contro il Brayton poi vabbè il 3-2 contro lo United, cioè ci sono partite 7-2 contro l'Everton 6-2 contro l'Everton, ci sono partite tipo una che non mi aspettavo per niente il 6-2 contro il Bouddustia Dortmund, cioè ragazzi non lo so, stiamo giocando bene penso conferenza stampa che mi porta fortuna con i big match anche se il Nottingham Forest è penultimo in Premier League quindi dai, speriamo c'è la possibilità che la squadra Nottingham Forest ritenuta più debole sulla carta adotti un approccio più aggressivo capito? ci faremo trovati pronti, questa squadra ai mezzi ci otterremo al nostro piano di gioco questa squadra ai mezzi, certo questa squadra ai mezzi per giocarsela sul piano fisico, certo speriamo l'ultimo successo misura contro la squadra di Inter influirà sulle tattiche per il prossimo impegno considerato sulla formazione Nottingham Forest la strategia è vincere i ragazzi lavorano solo i miei giocatori lavorano sempre con massimo impegno indipendentemente dall'avversario continueranno ok la squadra è un ottimo momento che riuscirete a confermarvi sui stessi livelli ma anche nelle prossime partite sicuro dai assolutamente i ragazzi assolutamente i ragazzi hanno ottenuto risultati fantastici in ultima partita non potrei chiedere di meglio sì siamo primi in campionato a due punti dallo United che tipo ho fatto due parecci con l'Its e la squadra con il pennuto quindi buono buonissimo sì abbiamo vinto 1-0 contro l'Inter ma non l'ho giocata in terra ma in versus attacco tipo alcune partite siccome era pochi giorni dalla partita questa qua la finale quindi non volevo far sprecare tanta energia quindi anzi ci è servito abbiamo metto 1-0 buono buono quindi dai speriamo bene dobbiamo vincere dobbiamo vincere secondo me ci danno bei soldi visto che siamo in Champions League purtroppo proprio agli ottavi ci becchiamo il loro il loro comunque il nostro giro non era piuttosto semplice abbiamo vinto tipo forse 18 punti quindi tutte vittorie però nonostante siamo arrivati i primi nulla l'Inter ci dobbiamo beccare per forza Gonzales potrà ritornare meglio vabbè allora pronti per la partita finale ah poi i Bremer penso che erano non poteva esserci una cordiscia migliore di quelli davvero per questa sfida dai che ce la possono fare i miei dovete al volo chi è capitano se non sbaglio ci avevo messo a Colomani si è Colomani perché questa stagione ci sta servendo davvero tanto soprattutto perché sta facendo tanti gol sta giocando un sacco bene ma soprattutto ha sbloccato Turam grazie a lui e la coppia Scamacca e Colomani io pensavo che tipo quando non c'era cioè tipo come posso spiegarvi la maggior parte delle volte in che erano entrambi non segnavano proprio loro ma altri e cose varie e ora se ci sono entrambi cioè Colomani e Scamacca segnero di più cioè hanno trovato una loro ottima intesa però alla fine dai speriamo di vincere dai buono io non ti do in forest 5 in difesa io la ho che senso ha non ha senso di vincere di vincere facendo i gol se tu non fai gol non puoi vincere cioè poi devo trovare sgattagliolare così secondo me uno dei migliori del quarter non riesce a sbloccarti bene il 3-5-2 lo uso perché alla fine ha azzeccato per i giocatori che ho e un pochettino perché lo so usare bene non ci so giocare bene quindi cioè alla fine non lo so ecco purtroppo manca il capitano il nostro capitano Jack Bowen che questa stagione è favolosa infatti ha fatto un più non so cosa però non sbaglio è la stagione che sta andando meglio ma pure è di gol tipo gli stessi gol di scamacca una cosa del genere sì però è bro è no rigore voglio rigore no allora non voglio tirare dai sì frattesi subito frattesi subito partesi pure lui cioè da non fare gol a fare gol in semifinale che è stata ragazzi una semifinale fantastica ha giocato tutto il Southampton che l'andata era finita 3 a 3 che ho giocato verso Stattaro no l'ho simulata scusate e e poi ritorno l'ho giocato tutto io un'ansia che ho avuto in quella partita perché alla fine se pareggiavamo cioè se rimaneva 0 a 0 il nostro risultato abbiamo vinto noi lo stesso perché c'era il gol di gol fuori casa solamente che tipo già subito segniamo l'1 a 0 per la maggior parte della partita eravamo avanti noi dopo il settantesimo poi non so che cosa ci è successo abbiamo subito un sacco e ci hanno fatto due gol 70 e 72 e poi Rice all'85 e poi Turam al 92 una partita veramente spettacolare perché io non pensavo di fare quei gol a quel momento visto che Turam sta avendo una stagione per non dire spettacolare infatti c'è stato un piccolo periodo in cui Scamacca non faceva niente non prendeva manco il pallone faceva piuttosto schifo e quindi mettevo Turam e Turam l'ha risolta sempre cioè facendo un bel po' di gol Tonali invece è uno che gioca la sua partita e fa invece Bastoni non sembra per niente male Bastoni ce l'ho da poco pochissimo pure Tonali non ce l'ho da tanto però stanno sembrando entrambi decisivi sia Tonali che Bastoni purtroppo forse avere Tonali non è proprio quello giusto perché mi piacerebbe qualcuno più offensivo grandissimo Frattesi doppietta la doppietta di Frattesi in finale eeeh cosa stavo dicendo aspetta ecco mi piace qualcuno più offensivo infatti Rice avevo pensato di venderlo perché uno che faceva pochi gol segnava poco però ho capito che se non c'è lui la palla non circola bene eeeh quindi mi serve tanto eeeh però vi posso dire non sta sembrando male però uno che volevo di più era Mesomount che anche se risulta come C o C secondo me il C-C lo poteva fare pure piuttosto bene soprattutto che Bowen si era infortunato quindi lo mettevo in Frattesi C-C normale che vabbè vi posso dire che Frattesi C-C non è manco male che non l'ho manco spostato di ruolo eeeh non sta giocando per niente male sta facendo un sacco di gol anzi prima doppietta se non sbaglio oppure già ha fatto pure un'altra tripletta non mi ricordo bene cioè guardate cosa serve la difesa 5 se poi vi fate attraversare in questo modo posso capire il Nordican Forest non fortissima penultima in campionato con una delle peggiori che si fece il campionato però cavolo all'inizio non la volevo fare dai di nuovo Frattesi Tripletta dai Frattesi Tripletta Frattesi Tripletta Frattesi così Tripletta fantastico grandissimo grandissimo Frattesi ti può fare zero gol ora Tripletta mi sono scordato quello che dovevo dire ma vabbè mi stavo dicendo qualcosa di importante forse non è manco importante comunque speriamo che mi danno tanti soldi perché ho tanti bei colpi che vorrei portare in squadra soprattutto centrocampisti centrocampisti perché l'attacco ho un attacco da 400 milioni quasi un valore di 230 di Colomoni quasi 150 di Scamacca io non li vendo anche se mi dicono miliardo di nuovo Frattesi faceva quattro gol è veramente favoloso dai Ecolo ma forse se ci metto Frattesi capitano scherzo che Frattesi vi posso dire un ottimo rimpiastro per Bow non ci ho pensato ci mettevo a come si chiama a quindi tutti si dirblate che schifo che cosa ha fatto che schifo ci mettevo non lo so a Vlasic alcune volte a Pachetà Pachetà ci fa schifo cioè mi risulta come ci ci mandano in partita stiamo giocando male stiamo giocando male stiamo giocando male Taps si passaggino eh 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 prendila Giosco Giosco non fa passare il pallone grandissimo vai vai scamacca vai scamacca vai scamacca scamacca Frattesi prendila Frattesi una cosa una cosa come più di 100 milioni eh sì frattesi tonali una cosa come 50 milioni circa di benzema dello scambio più 40 no 65 no un botto l'ho comprato però comunque mi hanno dato una grandissimo colomoni grandissimo guarda se non ho parlato grandissimo colomoni il portiere si aspettava gliela tirava dalla parte opposta e invece come ne ha 45 simone 4 a 1 che secondo me non finirà 4 a 1 ti posso dire ti posso dire comunque il gol sempre lo devo prendere cioè è scontato che lo devo prendere punto ho visto un pallone toccato punto quello e basta comunque ragazzi questo video lo sto registrando il 27 dicembre però buon natale buon natale a tutti quanti avete passato un buon natale buono perfetto managgiate il portiere Vlasic che schifo colpo di testa non è so manco deviato quindi poi ha fatto un tiro alla cacata tiro alla cacata no cavolo riconquistano palla gli avversari no già dovevo girarsi in così il difensore andava al baretto e scendava cavolo frattesi no eh eh no frattesi frattone muratore io lo chiamo così frattone muratore fantastico il protagonista il prossimo turno con questa sfida sfida incrociata tra notte in gampore e celsi mi aspetto molto da questo match ci sono tutti no frattesi una grande partita no dimmi che si è fatto male frattesi cerca l'appoggio al compagno frattone muratore io non lo so perché gli ho detto frattone muratore che vabbè però comunque vabbè mannaggia Vlasic comunque Vlasic l'anno scorso ha fatto una stagione da cioè fantastica protagonista ha fatto già gol all'esordio dopo il prestito al Torino ha fatto gol dopo il prestito non era per niente male però purtroppo ti ho segnato oro quest'anno un zero gol oppure tipo uno due pochissimo cioè l'anno scorso sembrava tipo uno che poteva fare tanto e ora nulla però ancora eccolo eccolo l'ho chiamato l'ho chiamato Vlasic Nicola Vlasic eccolo ci stavo dicendo che non segnava da un bel po' eccolo qua eccolo qua Nicola Vlasic eccolo qua grandissimo Vlasic la mette dentro un contro viene la morte dai prendi sto pallone ti prende schiaffi ti prende schiaffi Dargen ah bella parata ma sta partita la doveva giocare Onana si perché io le partite di coppa le faccio giocare Onana se no Onana non gioca più quindi al volo cambio ottimo dai fare entrare il turam ma ancora no ecco ancora no ancora no cambio si se no veramente Onana non gioca proprio che vi posso dire Onana io mi ricordo che era tipo P ho capito perché l'ho comprato a circa 40 milioni non quel genere forse perché quello che ricordavo che era forte era Mignon non Onana che beh non è tanto male alcune cose le fa veramente ottime però ci sono alcune azioni in cui non ne parliamo ecco cavolo ho sbagliato l'ho portato troppo sotto non ho già c'è il spettacolo questo qua sarà di serie meno B Onana 40 milioni se li merita grandissimo comunque Onana averlo su secondo portiere non è per niente male frattesi ruba il pallone per Vlas e Cepedino ve lo scambio frattesi frattesi corre frattesi corre combatte frattesi frattesi combatte volevo girarmi dietro così mandavo tutti al baretto poi golle golle no grandissimo che poi Mardiolo mi sembra che la scorsa zona tipo aveva fatto tre golle in tutto l'anno ora di meno però ne ha fatti un paio dai cioè non posso aspettarmi 10 gol da un difensore però qualcosina visto che uno bello alto di fisico però vi posso dire miglior difensore senza problemi la preme gran contropiede di così c'è sto giocando davvero molto bene vabbè me lo aspettavo già vedendo il bot vedevo che era una molto molto forte scamacca ci ha provato scamacca dai 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 ah vero è entrato bene 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 si bellissimo rice un pochettino stanchini li vedo quindi fare qualche cambio anche se è l'ottantesimo dai dai faccio qualche cambio entra 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 turam al posto di scamacca poi paketal posto ai tonali e dire basta così dai 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 purtroppo cavolo mannaggia che ci sono un sacco di infortunati mannaggia gli infortuni mi danno sempre problemi però penso che sia perché giocano tante partite tipo chiesa e se non sbaglio l'unico che le ha giocate tutte e penso che questo qua è il problema anche se era sempre verde verde spazza via come si la sua pelle era verde era sempre verde non pensavo ecco però vabbè dai si è infortunato purtroppo se non sbaglio quello che vedremo nella prossima stagione è proprio chiesa parata da un'ana invece tra qualche settimana tre mesi fuori è stato una difesa una gina il pubblico l'imitantino brandissimo onana onana scusa le critiche ti ho detto prima però veramente sei miracoloso si però aspettate volevo far entrare volevo far fare la presenza a Turam tanto per farlo entrare vabbè c'era il cambio però abbiamo vinto la Carabao 5 a 1 ma vabbè l'abbiamo vinto lo stesso l'abbiamo vinto lo stesso grandissimo sono felice triplete di frattesi non me l'aspettavo per niente cubo cubo ma aspettavo per niente grandissimo dai bella partita mi è piaciuta dai campione d'inghilterra campione d'inghilterra però voglio mandare un bel triplete bello vince la Champions League dai 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 pronti alziamo questa coppa alziamo questa coppa il capitano che non è il capitano ma è il capitano dai colo alza sto trofeo lo sei meritato alza sto trofeo eccolo qua campione d'inghilterra abbiamo vinto la Carabao Cup non pensavo però tipo ho eliminato tutte le big l'unica mi aspettava in finale era il Tottenham che aveva vinto tipo 2 a 1 contro il Nottingham Forest che poi io l'ho rimontata ai rigori grandissimo campione di Inghilterra sarà felicissimo ora Besoldini Dindini e compriamo Kaya Bears che non sarebbe molto male dai bellissimo sono felice è stato un bel cammino contro le squadre scarse ma è stato un bel cammino vediamo ragazzi ci salutiamo in un prossimo un prossimo torneo e una prossima vittoria ci siamo a